Negli ultimi tempi si sta assistendo sempre di più ad una progressiva riscoperta del valore e del ruolo della natura e alla nascita di associazioni di appassionati di trekking che, avendo a cuore il nostro territorio, si prodigano per la sua difesa e per la sua valorizzazione. Dal 29 novembre, per chi volesse conoscere meglio la montagna e cimentarsi nel ruolo di accompagnatore esperto, inizierà il corso di accompagnatore escursionistico regionale, organizzato da Golfo Trek Sapri e dal Comitato Regionale della FIE, la Federazione Italiana Escursionismo. Il corso, che si articolerà in 16 incontri con cadenza bimestrale e durerà fino a giugno 2015, si svolgerà presso l'Infopoint del Porto di Sapri e fornirà ai partecipanti le basi tecniche e culturali per poter affrontare un'escursione in un ambiente montano, in completa autonomia e sicurezza. Oltre alle lezioni teoriche, sono previste anche quattro escursioni domenicali in esterna, per testare praticamente ciò che è stato insegnato durante il corso. Insegnanti esperti affronteranno in aula argomenti concernenti elementi di ecologia del territorio, di viabilità rurale, di primo soccorso, di cartografia e GPS, l'organizzazione di un'escursione e molti altri argomenti che possono tornare utili in montagna. La quota di partecipazione al corso di accompagnatore escursionistico regionale, che abilita la conduzione unicamente di gruppi tesserati FIE in ambito regionale, è di 50 euro. Versando ulteriori 30 euro, chi vuole può sostenere l'esame qualificante davanti ad una commissione ad hoc, che valuterà la preparazione dell'aspirante accompagnatore. Per maggiori informazioni al riguardo, telefonare alla 340 90 12 301